che l'allenatore dovrà dare, l'allenatore dovrà capire quali sono le lacune, ammesso che ce ne siano, per cercare di su da subito, di mettere subito una pezza e cercare di migliorare questa squadra. Sono pronti i giocatori dove hanno aspettato per molto tempo prima di entrare anche per la preparazione, stavolta sono pronti con la stessa maglia tutti quanti, Paolo Cannavaro con il gagliardetto del Napoli, pronta a scambiarlo con il capitano del Wolfsburg, si attende anche che sia pronta la formazione tedesca che ha iniziato prima il riscaldamento, lo ha finito dopo, adesso è anche in ritardo per l'ingresso in campo.